Diciamo che è una soddisfazione grande per l'intero movimento sportivo, io credo per il ragazzo, per la famiglia, ma soprattutto per la società pesistica pordenonese, dove il ragazzo è nato, è cresciuto ed è arrivato a questi livelli. Quindi un grazie veramente alla federazione Pesi e alla società pesistica pordenone, che tra l'altro è un centro federale in Friuli Venezia Giulia, di cui dovremmo essere orgogliosi, dove il ragazzo si allena. Aveva già vinto europei, mondiali, qualche medaglia e poi ricordo che nel 2014 è arrivato terzo alle Olimpiadi giovanili e quindi un ragazzo che evidentemente era un predestinato. Io non ho mai detto niente, mi fa molto molto piacere che lo sia lui perché è uno sport molto difficile questo, impegnativo come potete capire e quindi fa molto piacere. Lui è nato, vive a Cordenonese ed è partito, come ti dicevo prima, presso la pesistica di Pordenone, che lavora presso il palazzetto dello sport di Pordenone, dove l'hanno portato, mi è stato detto, i genitori, che anche loro erano atleti. Non so dirti di quale disciplina, per irrobustirlo un poco e hanno trovato subito qualità in questo ragazzo, che adesso tra l'altro veste ovviamente la maglia del gruppo sportivo dell'esercito e si allena tra Cordenonese e il centro sportivo di Roma, insieme a questo nuovo allenatore Luigi Grando, che è anche lui di Pordenone, che ho sentito prima e che appunto è un allenatore della nazionale. Quindi insomma tutta roba nostra qua all'interno del gruppo del Pordenonese. Mi fa molto piacere questo perché Pordenone negli ultimi anni, ricordo la Trost, ricordo Molmenti con l'Oro, insomma, ci sta dando grandissime soddisfazioni ed era l'ultimo territorio che mancava un po' decenni fa, insomma, ad avere grandi risultati. Quindi questo ragazzo dà soddisfazione anche a quel territorio. Grazie a tutti.